Vene, forti, sti, tu, fai. Sorelle e fratelli, vi ringraziamo con noi a Dio, a Dio e al Signore nostro Gesù. Perché in questo anno di grazia, che avevamo detto che non gli benedizione spirituale e che vieni in Cristo. A tutti è stato un inferno tempo prezioso di Vene, forti e di conversione. Esprimiamo la nostra ragione e il nostro grazie. Annunzando la misericordia di Dio che si estende di generazione in generazione, chiediamo che noi continui ad ascoltare il nostro mondo intero come la rigata del mattino. Triste, Vene, Ordi e Sede. Principio e Fini. Egli apre e nessuno può più volere. Egli chiude e nessuno può più volere. A Lui la gloria e la potenza per tutti gli secoli del secolo. Amén. 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 Grazie.